Mi chiamo Nicoletta Fasani, il marchio si chiama come me, quindi Nicoletta Fasani, è nato nel 2011 tramite un abito che ho creato e inventato che ha dato origine a tutta questa impresa che dal 2011 ad oggi ha assunto diverse forme. La mia è una ditta individuale, attualmente produco tutto io, progetto l'abito e la collezione dal cartamodello al taglio alla confezione fino a occuparmi dello shooting, della scelta delle modelle, della scelta anche proprio delle location. La cosa che caratterizza il mio marchio è l'utilizzo di abiti che si compongono e si trasformano cercando di essere molto attenta alla materia prima. In particolare utilizzo seta che prendo a Como in vecchi setifici di tradizione italiana. Per l'estate utilizzo materiale biologico come canapa e ortica. Ho la sede a Milano, per questo ho scelto di essere qui in artigiano in fiera nella parte Lombardia-Milano e il mio laboratorio è in via Figino 2. È un laboratorio dove le persone possono accedere, si può vedere proprio la produzione e i miei abiti sono anche distribuiti attraverso dei negozi nella città di Milano e in Italia. Quello che caratterizza i miei abiti è la possibilità che offro al cliente di indossarli in modo diverso. Sono tutti abiti che partono da una forma geometrica che è il rettangolo e si possono usare in più modi. Quindi un abito diventa una maglia, una maglia diventa una sciarpa o diventa un top o una golna, quindi si trasformano. Questa idea è nata nel 2007 in quanto partecipai a un corso di orificeria e l'insegnante ragionava su forme geometriche. Quando ho finito il corso ho capito che il mio lavoro non era fare l'orafa, ma siccome da sempre ho una passione per i tessuti ho utilizzato le conoscenze che lui mi aveva trasmesso a livello geometrico applicate a una materia prima che era la materia che ho sempre scelto e amato, che è il tessuto.